Annalisa Orlando, Screenint Italia, presentiamo un po' di nuovi prodotti che stiamo lanciando qui all'IAC di Amsterdam edizione 2012. Di fronte a voi potete vedere uno schermo che si chiama Flatmax, è una cornice in alluminio anodizzato in colore nero con l'ancoraggio della tela ad aste ed elastici, veramente una cornice molto solida che supporta gli schermi dai 5 ai 10 metri di base di luce di proiezione. Su questo schermo vedete montata la nostra tela Deep Space 3D, una tela specifica per il 3D passivo che non depolarizza le immagini e che può essere montata non solo sugli schermi a cornice ma anche sugli schermi elettrici e questo effettivamente è fondamentale per magari applicazioni tipo pub o quant'altro nell'ambito delle proiezioni 3D. È una tela che può essere utilizzata comunque anche per le proiezioni classiche in 2D che ha un buon guadagno 1.4 e mantiene un elevato contrasto dell'immagine. Possiamo passare adesso a un altro prodotto che stiamo presentando in anteprima qui all'Integrated Systems Europe e che abbiamo denominato e chiamato Tiziano che può essere acquistato nelle versioni home cinema e tensioned. È un cassonetto di design, un cassonetto che può far parte in modo molto piacevole di ambienti interni sia ovviamente in arredamento in casa sia ovviamente in altre applicazioni magari più professionali che richiedono un'estetica un po' più spinta. viene fornito con diversi colori di cassonetto come standard il bianco che vedete qui oppure ci possono essere anche diversi tipologie di cassonetto giallo, rosso, grigio e quant'altro. Viene diciamo può essere utilizzato in misure dal 160 di base ai 4 metri di base nella versione sia home cinema che tensioned come dicevo prima. Può essere dotato come si può vedere in questo esempio che presentiamo di led di diversi colori come optional per dare un'ambientazione un po' diversa allo schermo stesso. È dotato di un motore molto silenzioso che appunto nelle applicazioni di cinema in casa o in certe altre applicazioni professionali può essere effettivamente una discriminante molto accentuata nella scelta dello schermo ed è dotato di una tela che rimane assolutamente perfettamente planare anche senza il sistema di tensionamento nel tempo. È di un motore che oltre alla sua silenziosità è anche molto veloce. Possiamo ora eventualmente passare a un altro articolo. Un prodotto che va a completare la gamma dei nostri elevatori motorizzati per video proiettori e che è questo che si può vedere nel controsoffitto l'SI30. È un elevatore molto utile qualora vi siano dei controsoffitti molto bassi quindi in un controsoffitto di soli 12 metri è possibile installare questo elevatore motorizzato con delle dimensioni massime chiaramente di videoproiettore ma molto agevole. Una massima corsa di 30 centimetri che va ad integrare una gamma che è già di molto successo di elevatori motorizzati per videoproiettore che comprende una gamma di elevatori più grandi con una maggiore corsa di questo, l'SI100 con corsa a un metro, l'SI200 con corsa a due metri per proiettori di massimo peso 15 kg e un'altra gamma parallela a questa per proiettori fino ai 70 kg in cui abbiamo due tipologie di prodotto, l'SIH300 con corsa a 3 metri, l'SIH500 con corsa a 5 metri con la possibilità di avere doppio fine corsa sia per quindi un primo fine corsa per la modalità proiezione secondo fine corsa per la modalità service in modo tale da non dover ovviamente disinstallare il proiettore per qualsiasi manutenzione sia necessaria su di esso.